Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come avete letto dal titolo quest'oggi proveremo qualcosa di nuovo soprattutto per me proveremo a fare i siluri a rana da una prospettiva totalmente diversa dal solito dunque mi raccomando ragazzi superiamo i 150 like per questo video per portarvene altri di ancora più spettacolari dunque mi raccomando lasciate like, condividetevi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e dunque direi rimanete sorpresi grazie a tutti e ho dovuto dare un attimo una botta devo togliermi le cannelle oh no è un siluro è un attimo visto un siluro quella che ti senti io all'inizio pensavo fosse una carpa dopo ho visto a coda era un bel ciano un attimo provato a coda ahhh guarda che qua teni da dove vuoi fare beh se battendo si uu 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 calma su che tiri no disine è me eh preso grande nooo cannea di merda nooo bello piccolino me lo sentivo non vi fiatto non vi fiatto non vi fiatto non vi fiatto oh 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 fermo 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 sono sicuro dietro no è così è così vai c'è questo vento che mi butta del traverso chi è il vento uuuu vai vai grande grande bello un piccolino un piccolino vai le avevo già lanciato lì prima se loro yeah boom baby vai 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 let's fucking go ok guarda fermo 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 fai così eccola qua va vai un paio di riprese eee wow 。 ce l'ho che pitardo guarda che cosa ti fa ti mangio a me anna ti mangio alla oddio no caga dosso pensai che magari ti arriva oh onda onda no ha mancato però sembrava un po' una schiena di una carpa non so dai preso 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 fermo 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 retro 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 mamma mia sto per tirar su piccolino retro boom baby boom baby prima c'è loro per me da qua no no era una cosa no no niente guardino niente guardino lo guardino così alla basso alla basma no e ho dovuto parlare dell'altro ieri e ieri questo che era piccolino però progressi finalmente un piccolino preso da super mezzo atomico un piccolino sarà un 70 80 centimetri con la cifra la sempre fatto a rana in pensare agli ultimi lanci cosa si fa cioè stavo tirando su cioè avevo il filo lento stavo iniziando a tirar su mangia ferratona come al solito e bam preso perfetto lato della bocca che dire che dire da barchino a più gusto stavo proprio facendo gli ultimi minuti temporale in arrivo qualche gocciolina in acqua l'attività dei siluri è pazzesca oggi stavo facendo gli ultimi lanci avrei fatto gli ultimi metri ormai siamo al buio lo spot è praticamente finito e finalmente ho scappottato proprio all'ultimo minuto ciao ciao Ciao